Pubbliche amministrazioni, enti e aziende hanno ben compreso come la PEC sia uno strumento in grado non solo di snellire i processi, ma anche di garantire un notevole risparmio di spazio, costi e tempo. Ed è per questo che sempre più clienti si rivolgono ad Aruba per soluzioni su misura o appositamente modellate sulle loro esigenze. Come azienda leader nel mercato delle PEC e partner tecnologico per la digitalizzazione delle aziende, Aruba fornisce a clienti business soluzioni personalizzate per accompagnare enti e aziende nella digitalizzazione dei processi. Tra i servizi business di Aruba PEC ci sono ad esempio La PEC massiva Specifica per chi ha bisogno di inviare grandi quantità di messaggi risparmiando sui costi delle raccomandate PEC supervisore Un pannello dedicato e ideale per ottimizzare il lavoro di chi deve gestire un numero elevato di caselle PEC Per se stesso o per i propri clienti PEC Flow Per gestire in modo integrato caselle PEC e caselle di posta ordinaria in un ambiente sicuro e condiviso Ma con le soluzioni personalizzate di Aruba potrai anche avere caselle PEC certificate con il nome del tuo sito web o della tua azienda Gestire la conservazione sostitutiva dei messaggi certificati Predisporre invii massivi oppure richiedere configurazioni specifiche con l'aiuto dei nostri consulenti specializzati Vuoi sapere di più sulla posta elettronica certificata? Vai al prossimo video!